Alla fine. Allora, di solito in questo momento vi introduco la bella, però la conoscete già, è sempre la solita. Però, allora, alla mia sinistra, alla vostra monestra, c'è un nuovo chitarrista. Allora io vorrei dedicare a Asgard, ad Anigo, che per noi, ve lo dico ufficialmente, ci ha lasciato. Ok, di comune, ecco, qui ci ha mostrato la mano. D'altro, i suoi impegni lavorativi non potevano più continuare con me. Un grazie a D'Alessio che ci ha permesso di fare queste date. Ci seguiranno nei prossimi giorni e poi si vedrà chi entrerà a far parte della famiglia di D'Alessio. E quindi, per questa sera, un grande applauso a Danilo, che è stato con noi 17 anni. E gli invitiamo a Asgard. Nulla non ha riposato il mio palazzo. Allora non ha riposato il mio palazzo. Allora non ha riposato il mio palazzo. Grazie a tutti 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 Buon procedimento Ci facciamo la torta Ci siete?